Si è chiuso con un avanzo di gestione di 37,6 milioni di euro l'esercizio 2015 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che vede salire il proprio patrimonio da 1,202 milioni a 1,209 milioni e il Fondo per le erogazioni da 27,5 a 29 milioni. Elevato anche il Fondo di Stabilizzazione, che si attesta a 34 milioni, esattamente come il 2014. Importante conferma anche per le erogazioni deliberate, che toccano quota 29,3 milioni. Sta in queste cifre il bilancio consuntivo 2015, cifre che collocano la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ai primi posti fra le principali fondazioni bancarie italiane, in particolare nel rapporto fra patrimonio e derogazione. Un primato importante, che conferma la Fondazione al nono posto assoluto come patrimonio e al settimo per erogazioni. Inoltre siamo riusciti, con base ai risultati ottenuti, ad accantorare 29 milioni anche per il 2016. Quindi diciamo che col 2016, di fatto, chiuderemo le mura con uno stanziamento ulteriore di un milione e mezzo, praticamente contiamo entro fin anno di chiuderle. In più ci hanno permesso di portare a compimento tutti gli interventi già programmati e di programmarne altri. Nel 2015 sono stati realizzati 650 interventi, per un totale di 29,3 milioni di euro nei seguenti settori. Educazione e ricerca 11,9 milioni, arte e cultura 9,7, volontariato, che comprende anche l'assistente agli anziani e la crescita e la formazione giovanile, 4,5 milioni, lavori pubblici e sviluppo locale 2,1 milioni, salute pubblica 1,1 milione. Particolarmente significativa nel 2015 è stata anche la nascita della Fondazione per la coesione sociale, una fondazione di scopo con la quale la Fondazione Cassa di Risparmio opererà nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.